Approvare il suicidio assistito aprirebbe una voragine legislativa nel nostro paese. E' netta la posizione della conferenza episcopale italiana nelle parole del presidente Cardinal Bassetti. Non esiste un diritto alla morte, ha ribadito il porporato nell'evento pubblico che si è tenuto oggi pomeriggio. C'era per noi Nicola Ferrante. Cosa significa eutanasia? Eutanasia significa che i più deboli, i più fragili, quelli senza famiglia, senza nessuno che li accudisce, sono i primi, le prime vittime. Perché lì ci sarà un freddo consenso informato, una crocetta da fare su un modulo dove ci sarà scritto desideri che ti venga somministrato un farmaco letale. E magari qualcuno dirà sì senza neanche rendersi più di tanto conto. E questo è drammatico. L'altra prospettiva più in chiave giuridica, se proprio si vuole intervenire, si può differenziare mantenendo il reato, le vicende che riguardano questo tipo di assistenza nella morte e le vicende di pieno suicidi assistito. Quindi non una depenalizzazione, ma una attenuazione della pena. Rimane il reato, ma con una diversa velocità.